intanto c'è stato un avviso pubblico perché il consiglio di amministrazione agis era scaduto c'è stato questo avviso pubblico un avviso pubblico a cui ho partecipato in cui andava legato un curriculum di esperienza di tipo professionale e amministrativo come molti di voi sanno chi mi conosce il mio lavoro è proprio questo la gestione di impianti sportivi io faccio questo di mestiere ho studiato per fare questo e quindi quando è uscita questa opportunità ho voluto partecipare è chiaramente una nomina poi diretta del presidente della provincia che visti curriculum sceglie il consiglio di amministrazione e all'interno del consiglio di amministrazione sceglie poi il presidente ho avuto delle interlocuzioni e insomma ho accettato di buon grado questo incarico che tengo a precisare e a compenso zero lo dico giusto per insomma uscire da qualche equivoco però è un incarico prestigioso che mi onoro di voler portare avanti perché penso di poter dare con la mia esperienza lavorativa e anche amministrativa un contributo importante agli impianti della provincia di caserta mi viene in mente lo stadio del nuoto che ritengo sia uno dei fiori all'occhiello dell'agis un impianto dove all'interno ci sono quasi 40 società un impianto che ha ospitato anche le università insomma un impianto di tutto rispetto senza dimenticare il palapiccolo da pochissimo ristrutturato che è un impianto di grandissima qualità e apprezzato villa vitrone un altro elemento che si trova poi all'interno dell'agis la conosciamo benissimo sappiamo l'importanza storica di questa villa e tutti gli impianti che dirapitano intorno alla provincia di caserta il circolo del tennis e tante altre strutture sicuramente la gestione insomma degli impianti della provincia di caserta si tratta ovviamente di portare e di far sì che questi impianti innanzitutto siano adeguati siano a norma siano evoluti con i tempi e diano grandi opportunità al territorio un territorio che vive di sport e di cultura questo caso di sport e quindi ritengo che lo sport sia un elemento fondante sia nella formazione personale delle persone sin da piccole ma soprattutto sia un elemento di grande aggregazione è un elemento sociale molto importante soprattutto in questa città in questa provincia dove di campioni da queste strutture ne sono uscite e non poco per cui l'impegno è quello di continuare intanto il lavoro che sta facendo la provincia nella riqualificazione degli impianti ne avrò modo di incontrare il presidente della provincia per fare un primo punto sulla situazione per il mio insediamento e chiaramente i miei colleghi del cda e poi mettere questi impianti in condizioni di essere impianti evoluti impianti di ultima generazione in grado di ospitare sempre più persone sempre più società e dare sempre più opportunità a tutte le realtà del territorio che rappresentano lo sport non solo a livello locale ma anche a livello nazionale questo sarà il mio compito fatto sempre con passione e con dedizione e spero insomma di portare a casa in questi cinque anni che mi attendono di incarico dei risultati importanti grazie auguri e bocca al lupo grazie a voi